Cresce la preoccupazione per l'impegnata di contagi da Covid-19 in campagna nella giornata di ieri. Si contano 2.971 casi positivi, di cui 2.870 sintomatici e 101 i sintomatici. Sale quindi a 65.432 il dato delle positività testate, registrate anche 24 receduti. Nel Comune di Torre del Greco ieri certificati 20 ulteriori casi di positività al virus tutte in forma sintomatica. Ha testato inoltre il passaggio di un soggetto positivo dal regime ospedaliero all'isolamento domiciliare. Dopo i dati di ieri salgono a 347 i cittadini torresi positivi al tampone. Il numero di cittadini del Comune di Ercolano positivi al Covid-19 è di 467 unità, mentre 92 sono i guariti. Il totale dei tamponi è di 3296 a partire dal 1 ottobre. Gli ospedalizzati sono 5. Si attesta un incremento di 42 casi registrati nell'ultimo weekend. Preoccupante quadro arriva dal Comune di Castellammare, che registra ben 87 cittadini positivi al Covid-19 in 24 ore. La nostra città è alle prese con una fase critica dell'emergenza. Sono in contatto continuo con ASL, Regione e Governo, per le misure da adottare per porre un freno alla diffusione del contagio e abbassare questi numeri impietosi, afferma il sindaco Gaetano Cimmino. In questa fase chiedo a tutti voi di rispettare le regole. Io sarò sempre qui al lavoro giorno e notte per la vostra tutela. A portici le persone che al 1 novembre risultano contagiate sono 431 di cui 4 ospedalizzate, mentre 427 sono in isolamento domiciliare prevalentemente con sintomi lievi. Per esperienza personale consiglio a tutti i contagiati e ai loro familiari di avere innanzitutto grande pazienza senza l'ansia di guarigione. Grande disciplina nel seguire le terapie indicate dai rispettivi medici di famiglia o dai pediatri di libera scelta a cui esprimo un senso di gratitudine per l'impegno, la dedizione e la professionalità con cui stanno curando i propri pazienti, scrive il primo cittadino Enzo Cuomo. Altri 13 casi di positività da Covid-19 nel Comune di Bosco Trecase, riferiti a 51 tamponi comunicati nella giornata di ieri.